Ben ritrovati da oltre la cronaca in diretta su Telepace per l'informazione. Apriamo parlando dell'inaugurazione e della riapertura, dopo quattro anni di lavoro, dell'ostello Don Luigi di Liegro e dell'annessa mensa San Giovanni Paolo II a Roma, alla stazione Termini. Un avvenimento importante che è successo ieri e ricordiamo venerdì 18 dicembre il Papa aprirà la porta santa all'ostello della Caritas, la porta santa della Carità e della Misericordia. E' proprio del giubileo straordinario della Misericordia. Parliamo allora adesso perché come sapete due figure importanti che hanno vissuto in modo speciale la Misericordia sono state San Pio da Pietrelcina e San Leopoldo Mandic. Sono santi le cui spoglie saranno in febbraio a Roma per la devozione dei fedeli. Ma in collegamento da Padova abbiamo il caporedattore Roberto Zoppi con alcuni ospiti che ci parla proprio di San Leopoldo Mandic. Vediamo se è in collegamento con noi Roberto Zoppi. Assolutamente sì. Buongiorno, buongiorno, grazie Marina per la linea. Noi non potevamo mancare qui da Padova a questo avvenimento che è decisamente straordinario per un anno straordinario della Misericordia. Misericordia è l'evento che porterà San Leopoldo Mandic assieme a San Pio da Pietrelcina che porterà San Leopoldo Mandic a Roma. Oggi c'è stata una conferenza stampa. Io ho tenuto qui al freddo e da finita da qualche minuto padre Flaviano che è un po' la memoria storica di questo santuario e poi due figure straordinarie che hanno lavorato per così dire sul corpo per quanto riguarda l'ostensione di San Leopoldo. Gli ho tenuti qui un po' al freddo però l'occasione è importante perché è importante San Leopoldo quello che continua ancora oggi a dire padre Flaviano. Prima le ho chiesto ma una persona così umile, lui che diceva bisognerebbe vivere nel nascondimento, con tutta questa attenzione oggi cosa ci direbbe padre Leopoldo? Io penso che padre Leopoldo direbbe non guardate me ma guardate lui. Sulla facciata della chiesa c'è un bellissimo dipinto di padre Leopoldo che ha una mano che accoglie e l'altra che la indirizza verso Cristo. Padre Leopoldo anche i suoi penitenti li orientava tutti verso Cristo, tutti verso Gesù Crucifisso perché lui attraverso la sua donazione, la sua morte, la sua risurrezione ha dato a noi la possibilità di riabbracciare il padre, di fare l'esperienza della divina misericordia. Quindi io penso che se padre Leopoldo accetta che l'attenzione cada su di lui è perché lui vuole mandarci alla fonte della misericordia. Ma un anno fa non avreste pensato a questa grazia per tutto il mondo ma anche per voi, per Padova, per i cappuccini? No, penso che nessuno ci avesse pensato a questa cosa straordinaria. Io ho sempre pensato da quando Papa Francesco è stato eletto nel 2013 che la sua persona e il suo messaggio erano perfettamente in sintonia con l'intuizione profetica di padre Leopoldo, non soltanto per l'ecumenismo spirituale ma anche per come esercitava il sacramento della riconciliazione. I temi che Papa Francesco ha presentato al mondo nelle sue omelie, nei suoi dialoghi, nei suoi documenti, fin dall'inizio del suo pontificato sono perfettamente in sintonia con padre Leopoldo che è vissuto per testimoniare l'amore misericordioso del Signore. Parla ancora oggi, professor De Caro, lei che ha curato e ha guidato questo gruppo di studiosi che ha lavorato sul corpo, sulle reluque così come amiamo chiamarle, di padre Leopoldo. Parla ancora e dice quanto ha fatto, quanto si è consumato, quanto ha dato per quel ministero che ha vissuto qui. Grazie, indubbiamente quello che noi rileviamo da un esame antropometrico o tanatologico del corpo di San Leopoldo è la testimonianza di una vita dedicata, un corpo esile, un corpo molto concentrato, userei il termine, nel quale lo stato di conservazione è un elemento di testimonianza di una vita dedicata. Indubbiamente le caratteristiche più significative dell'apparato locomotore, una deformazione artrosica di una delle parti corporee che più ci mette in relazione con il prossimo, la mano. La mano con la deformazione delle dita, una mano molto vissuta, è particolarmente significativa. Poi altri reperti che ci hanno colpito in maniera particolare sono quelli che abbiamo... dell'esame TAC con l'imaging TAC acquisendo oltre 3.000 immagini del corpo è stata effettuata poi la ricostruzione non soltanto della struttura corporea ma anche dei visceri interni e uno degli elementi significativi come accennavo precedentemente nella conferenza è stato il reperimento ancora di porzioni del cervello e del cuore e questo per noi ha un significativo per chi è credente al di là del reperto biologico è suggestivo per qualcosa in cui noi abbiamo fede. Grazie, grazie infinite. Se sarà possibile vederlo così come uno se lo immaginava è grazie anche all'Ineo Tabarin che ha lavorato sul corpo di San Leopoldo Mandic. Che cosa vuol dire? Ecco, io ho usato un termine un po' brutto anche lavorare, mettere mano sul corpo di un santo che poi viene venerato, dal quale passano e passeranno ancora tante tante persone per pregare, per chiedere grazie. C'è sempre emozione, di fatti quando mi accingo a lavorare per una persona cerco di capire e di documentarmi un attimino chi era costui e c'è sempre quell'approccio diciamo un po' anche di paura di sbagliare, di fare qualcosa di errato però dopo parti e fai i lavori con coscienza. La collega di Verona Marina mi chiede, ma che cosa vedranno? Come si vedrà? Come l'avete, tra virgolette, trattato il corpo mortale di San Leopoldo? Il trattamento è il trattamento di conservazione classico, quindi non ci sono stati procedimenti particolari o chissà quali interventi. è stato fatto un consolidamento per dare maggior stabilità alla struttura e quello che si vedrà sarà semplicemente Padre Leopoldo vestito con il saio e con un volto che è stato realizzato sul calco del volto che esiste qui in una delle teche del santuario. è il più fedele tra quelli che abbiamo trovato e visti perlomeno è quello più fedele, quindi di conseguenza è stato, non è un viso freddo è un volto con tanto di barba, baffi reali, quindi dolce, proprio dolce, è una persona tranquilla che dorme serenamente. Dolce, dove è Padre Flaviano? È qui accanto a me. Dolce come ricordava spesso, anche come ricorda Papa Francesco, perché San Leopoldo mandice è anche espressione di quella tenerezza, è l'aggettivo che usa spesso Papa Francesco, è così? Direi tenerezza e compassione nello stesso tempo, tenerezza nell'accogliere, compassione nel condividere, nel compatire le difficoltà delle persone che si rivolgevano a lui. Spesso diceva Padre Leopoldo, siamo qui due peccatori, quindi si sentiva lui stesso nel piano di coloro che si avvicinavano, peccatori come si era sentito peccatore Gesù quando si era presentato a ricevere il battesimo di Giovanni il Battista, ma attraverso di lui, come Gesù, a immagine di Gesù, e il sacerdote è un'altra immagine di Gesù, è immagine di Gesù, trasmetteva la misericordia del Signore, la misericordia del Padre. Questa misericordia che ricrea, che fa rifiorire la vita dentro le persone, che le apre a mondi nuovi, perché ti dice sei una nuova creatura e il Padre dall'alto dice tu sei mio figlio, io oggi ho posto in te la mia compiacenza. Questo è lo straordinario che accade durante il sacramento della confessione, che spesso facciamo magari in maniera così veloce, invece no, invece no, è un'esperienza straordinaria di vita nuova, è un'esperienza spirituale. Ti sentiamo Marina, ti sentiamo. Ecco Roberto, visto che i nostri ascoltatori, tanti sicuramente sanno chi è San Leopoldo Mandic, ma non a tutti è così noto, brevemente riusciamo a raccontare qualcosa della sua vita? Assolutamente, perché noi diamo scontata la figura di San Leopoldo, ma le chiedo una grande, per così dire, prova di sintesi. In due parole, visto che naturalmente la nostra trasmissione arriva molto lontano, San Leopoldo, chi era costui? Misericordioso e profetta dell'ecumenismo spirituale, così è stato definito, non sono parole mie, dal Papa che lo ha beatificato Paolo VI e da Giovanni Paolo II che lo ha canonizzato. Arriva qui, frate Cappuccino, vive soprattutto a Padova, confessa innanzitutto, ma anche un periodo particolarmente difficile perché per le sue origini viene mandato durante la Prima Guerra Mondiale in esilio. Sì, perché avrebbe dovuto rinunciare alla sua cittadinanza austriaca e Padre Leopoldo invece coltivava, ha sempre coltivato dentro il cuore il desiderio di tornare in Croazia per realizzare quel sogno, quel progetto di darsi da fare, di operare per la ricomposizione della Chiesa d'Oriente con quella d'Occidente. Il suo grande sogno, il suo grande desiderio in profondità, per cui ha dedicato tutta la vita, ha fatto voto di vittimalità perché la Chiesa sia una, sia unito alla preghiera di Gesù che diceva nell'ultima cena che tutti siano una cosa sola perché il mondo veda e creda che il Padre mi ha mandato. Le faccio raccontare queste cose in un altro momento perché noi il 17 di febbraio probabilmente saremo qui per l'apertura della Porta Santa, ma mi dica una cosa, San Leopoldo Mandic tornando da Roma farà qualche sosta nei luoghi in cui si può dire qualcosa, in cui è passato di ritorno da quel periodo passato al sud? Non posso svelare ancora in maniera particolare o dettagliata le soste e le tappe perché stiamo aspettando le autorizzazioni necessarie da Roma, dalla Congregazione per le Cause dei Santi, però io penso che l'urna sosterà perché è molto desiderata, molto attesa. Alcuni Vescovi hanno chiesto che si fermi nel viaggio di ritorno per presentarlo ai loro fedeli come modello attuale della misericordia che stiamo celebrando in questo anno santo. Marina, ti ristituirei la linea, manderei al caldo i nostri ospiti che sono stati gentilissimi, tantissime le cose che vorremmo dire, ma magari le diremo nei prossimi anche telegiornali perché ricorderemo tante date. Grazie, grazie padre Fabiano, grazie professor De Caro. Grazie per averci portato all'attenzione la figura di San Leopoldo Mandic, una figura di santo che va sicuramente riscoperta perché ha molto da dire in termini soprattutto di misericordia. Adesso cambiamo argomento e prima di mandare uno spot molto breve, vi chiedo di memorizzare questo numero 45 505 perché stiamo per parlare di un argomento veramente molto importante. Allora guardiamo questo spot. Cosa vede un bambino appena nato? Il mondo si apre ai suoi occhi come un disegno scomposto di luci e di figure, un caleidoscopio di forme e di colori, ma è solo dopo qualche giorno che riesce a vedere la sua mamma. In Italia ogni anno sono 3.000 i minori abbandonati, ma solo 400 vengono ritrovati. Dona il 45 505 e aiuta AIBI a dargli una nuova famiglia. Questo è lo spot dell'AIBI, l'Associazione Amici dei Bambini, per la campagna che sta andando, che è in corso adesso fino al 21 dicembre. E io voglio ricordare quanto detto nello spot alcune cifre perché dobbiamo fermarci per riflettere. Sono circa 30.000 i bambini in Italia fuori famiglia. Ogni anno circa 3.000 neonati vengono rifiutati al momento della nascita. E di questi solo 400 vengono salvati perché abbandonati al riparo nelle culle termiche o all'interno degli ospedali. Degli altri si perde traccia o si ritrovano troppo tardi. Sono cifre che veramente andrebbero ripetute, penso, tutti i giorni nei nostri telegiornali, nei nostri spazi informativi. Perché un bambino abbandonato è una vita che si spegne se non viene accolta. Eppure ci sono i modi per tutelare queste piccole vite. Ci sono le culle per la vita, ci sono le case di accoglienza, ci sono gli ospedali che accolgono nell'anonimato. Allora, memorizziamo questo numero 45 505, a cui si può donare, lo ricordiamo, tramite cellulare ma anche tramite numero fisso. Si può donare 2 euro con il cellulare oppure con il numero fisso 2 o 5 euro. E tra pochissimo dovremmo avere in collegamento Valentina Bresciani, responsabile della campagna fame di mamma. Perché questa è la campagna mandata in corso dell'AIB, l'Associazione Amici dei Bambini, che in questi giorni sta andando sulle reti nazionali. Allora, Valentina, fame di mamma, perché questa campagna? Buongiorno a tutti. La campagna fame di mamma proprio perché serve per sensibilizzare un po' il tema dell'abbandono che esiste anche in Italia. Non è un problema solo dell'estero, è un problema anche che vediamo ogni giorno qui in Italia. Si parla di 30.000 bambini fuori famiglia e che si trovano a vivere in situazioni come comunità d'accoglienza, strutture d'accoglienza, casa famiglia e progetti di affido familiare. C'è un dato che fa riflettere, Valentina, tanti neonati abbandonati. Allora, io penso da una parte alle tante famiglie che vorrebbero avere un figlio, dall'altra al dramma di tanti che si trovano nella condizione di lasciare il proprio figlio. Allora, voi come AIB, come associazione, cosa state facendo? Noi come associazione abbiamo appunto appena avviato la Family House in provincia di Milano, dove abbiamo concentrato tutta una serie di servizi, tra cui una culla per la vita. Culla per la vita, che è un po' la vecchia ruota degli esposti del passato, dove c'è la possibilità comunque nelle situazioni dove le donne non sono nelle condizioni di poter gestire il proprio figlio e di lasciarlo comunque in un contesto di protezione. Questo vuole essere anche proprio un segno sul territorio. Si parla di circa 3.000 bambini che vengono abbandonati, solamente 400 poi vengono comunque adottati e quindi trovati. Il problema è appunto che non ci sono tanti posti dove le donne in difficoltà possono in totale anonimato lasciare il proprio bambino. Anche se in ospedale si potrebbe fare, ad esempio, tante forse non lo sanno. Forse non lo sanno, infatti la culla per la vita vuole essere proprio un po' un segno per creare una cultura legata alle diverse possibilità di poter lasciare il bambino in un contesto di protezione. C'è anche la possibilità del parto in anonimato, però vuol dire che comunque la donna deve rivolgersi all'ospedale, rimane comunque una traccia. La culla per la vita in un contesto fuori da un contesto ospedaliero porta comunque a garantire un contesto di anonimato totale alla donna che decide di abbandonare. Come funziona questa family house? Cosa c'è nella family house? Nella family house ci sono servizi di accoglienza, ci sono comunità mamma-bambina di primo livello, ne abbiamo due, dove ci sono donne accolte 24 ore su 24 accompagnate dalla presenza di educatori che sono al loro fianco proprio per aiutarle a gestire tutti gli aspetti della genitorialità e quando sono pronte possono essere accolte in appartamenti di femmine di alta autonomia dove la presenza degli educatori viene sempre meno proprio per aiutare la donna ad essere totalmente autonoma. All'interno della family house c'è anche uno spazio neutro che è un luogo dove i bambini che sono allontanati dalle proprie famiglie possono incontrare i propri genitori sempre col supporto e l'aiuto di operatori che siano lì a tutelarli. All'interno dello spazio neutro c'è anche per esempio un angolo cottura dove c'è la possibilità di permettere alle famiglie di sperimentare proprio tutte le azioni di una vita quotidiana proprio per osservare bene quella che è la relazione tra il genitore e il proprio bambino. C'è all'interno anche un centro di formazione rivolto sia a famiglie accoglienti ad operatori dei vari servizi sociali proprio per spiegare un po' tutti gli aspetti di che cosa comporta l'abbandono. Noi siamo un'associazione che si occupa anche ovviamente di adozioni internazionali e di conseguenza riusciamo a raccontare bene diverse sfaccettature di quelli che possono essere i problemi che i bambini adottati o in assido possono portare. Valentina, chiedo un'altra cosa. La campagna è fino al 21 dicembre, abbiamo visto prima nello spot il numero 45505 e quindi quanto raccolto da questa campagna cosa andrà a sostenere proprio effettivamente? Andrà a sostenere tutte le realtà di accoglienza che abbiamo in Italia dalla Family House alle case famiglie alla rete di famiglie affidatarie che abbiamo proprio perché è necessario continuare ad avere numerosi supporti per favorire questa forma di accoglienza anche proprio in Italia. È un problema che riguarda anche l'Italia, quello dell'abbandono dei binori e di conseguenza abbiamo sempre bisogno di maggior supporto per aiutare e stare accanto a tutte le famiglie, dall'adottiva alla fidataria alla famiglia fragile. L'ultima domanda, l'opinione pubblica è abbastanza sensibile a questo tema perché 3.000 neonati abbandonati sono tanti e non se ne sente parlare però tantissimo. Non se ne sente parlare, infatti è un po' lo stimolo che noi ci siamo porti all'interno nel momento in cui abbiamo deciso di sviluppare un po' questo importante progetto della Family House vuole essere proprio uno stimolo per tutti, proprio per cercare di favorire maggiore spazio alla cultura proprio al creare dei nuovi meccanismi di diffondere quelle che possono essere effettivamente le situazioni di disagio e ce ne sono tante. Le famiglie fragili ormai non sono soltanto quelle definite fragili non sono soltanto quelle che hanno problemi economici ma sono persone sia italiane che straniere e diverso con preparazioni anche scolastiche differenti quindi diventa proprio sempre più importante creare un quadro più chiaro rispetto a quelle che sono le diverse problematiche che comunque il nostro paese si trova a vivere. Grazie Valentina, grazie. Noi invitiamo, se può andare di nuovo in sovrimpressione il numero invitiamo a fare questa azione di supporto, a donare tramite il cellulare un numero fisso 2 euro al numero 45 505. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille, buongiorno. E adesso torniamo a parlare del Giubileo della Misericordia da Padova. Ci spostiamo a Vicenza perché il santuario di Monte Berico è uno dei luoghi in cui sarà vissuto in modo speciale il Giubileo della Misericordia così come ha voluto Papa Francesco. Un luogo dove decine di persone ogni giorno incrociano il volto di Cristo in quello di un frate nel momento in cui vivono il sacramento della riconciliazione ma non solo. Domenica anche qui sarà aperta solennemente la Porta Santa e inizierà il cammino giubilare. Vediamo. Avrà un sapore tutto diverso l'apertura della Porta Centrale della Basilica Santuario di Monte Berico domenica prossima perché è la porta dalla quale passeranno i pellegrini per vivere anche qui nel Vicentino a più di 600 chilometri da Roma uno dei momenti centrali dell'anno santo della misericordia. Tantissime le persone che attraversano questa porta ogni giorno ma da domenica prossima sarà una cosa diversa. Sì, diventerà la porta della misericordia e io sono convinto che la porta serve per entrare e per uscire. Qui bisogna entrare per scoprire la misericordia di Dio, il mistero della misericordia di Dio perché la misericordia di Dio è talmente grande, è talmente infinita che è un mistero. Non riusciamo a capire perché Dio perdoni dalla croce quelli che lo avevano crocefisso, gli avevano sputato in faccia e dicendo non sanno quello che fanno, perdona loro. Oppure perché il padre del figlio al prodigo lo accoglie in casa senza neanche rimproverarlo, senza neanche dirgli ti accorgi quello che hai fatto, ma gli fa solo festa, gli fa una grande festa. Noi facciamo fatica a capire questa misericordia di Dio. L'apertura solenne della porta santa sarà preceduta da una veglia notturna che inizierà alle 20.30 del sabato per concludersi il mattino seguente alle 6 quando inizierà la cerimonia che precederà la concelebrazione nella quale i frati confessori riceveranno il mandato di confessare nella penitenzieria, il luogo dove ogni giorno passano decine e decine di persone. Che cosa vuol dire passare ore all'interno di un confessionale? Ma è un grande esercizio difficile perché ognuno è persona diversa e ha problemi diversi, però per tutti quanti cerchiamo di dare quello che è Dio, cioè l'amore, questo senz'altro. Non giudicate, anzi ponetevi in atteggiamento di ascolto di misericordia. Aprire e attraversare la porta vuol dire questo? Sì, aprire e attraversare la porta per scoprire il mistero di Dio, la misericordia di Dio. Io credo che poi bisogna anche uscire dalla porta e andare incontro ai molti che hanno bisogno di misericordia, ai molti che magari non riescono, non hanno neanche il coraggio di entrare, andare verso di loro e avere tanta bontà. Oggi c'è troppa cattiveria nel mondo, c'è bisogno di più misericordia, di più compassione. Verso gli uomini. E io direi che dobbiamo imparare ad avere misericordia anche verso il creato, cioè finire, finirla di inquinare la terra con i nostri veleni, finire di avvelenare le acque, finire di, con questo smog dell'aria che respiriamo, ci vuole misericordia, rispetto anche dell'ambiente. Quest'anno della misericordia deve portarci a capire, ad avere più rispetto dell'ambiente. E ricordiamo che in questi giorni Telepace sarà molto impegnata in alcune dirette, proprio in vista dell'apertura del Giubileo della Misericordia, nelle varie diocesi, in particolare domenica alle 16.15, la diretta per l'apertura del Giubileo a Verona, in diretta da Santa Anastasia prima e poi dalla Cattedrale, e alle 17.45 in collegamento con la Cattedrale di Lodi, mentre questa sera dal Tempio Votivo di Verona alle 20.50, trasmetteremo l'apertura del Giubileo per i giovani, con il Centro di Pastorale Giovanile Adolescenti e Giovani. Cambiamo argomento, parliamo di giornalismo di qualità e attento alla solidarietà, perché Lucia Bellaspiga di avvenire, Claudio Moschin della TV Svizzera italiana ed Eliana Astorri di Radio Vaticana sono i vincitori del premio Natale UCSI 2015. Al telefono abbiamo Stefano Filippi, giornalista presidente della sezione UCSI di Verona. Buongiorno. Buongiorno. Allora Stefano, sono stati disegnati i vincitori di questo premio giornalistico che ha la 21esma edizione. Qual è l'obiettivo del premio? L'obiettivo è di dare un riconoscimento al buon giornalismo, come dicevi giustamente, al giornalismo di qualità, che si occupa di temi non così presenti sempre nei giornali e che però trattano questioni che sono questioni di strafissima attualità, quindi il volontariato, l'assistenza al disagio sociale, l'accoglienza, tutto quello che è, quello che potrebbe essere definito il bene, quel bene che non fa notizia, ma che noi vogliamo che venga riconosciuto, che faccia notizia e quindi diciamo il premio che è in memoria di un grande giornalista veronese, il profe Giuseppe Tacincani, che ha lavorato per tanti anni all'Arena e che è stato quello che ha portato proprio questi temi all'attenzione del giornale cittadino. Il premio, diciamo, riconosce questo impegno per gli articoli e le cose che vengono a portare. Ecco Stefano, ricordiamo che la premiazione si terrà a Palazzo Barbieri, in Comune a Verona, sabato 19 dicembre, alle 11. Velocemente ricordiamo, ti volevo chiedere, in questi anni so che il premio appunto da locale è diventato poi nazionale sono aumentati i lavori che partecipano al premio in quantità ma anche in qualità, è così? Sì, anche quest'anno abbiamo avuto una partecipazione di circa 100, adesso il numero preciso non lo ricordo, ma sono sicuramente 170-180 i partecipanti di tutte le varie sezioni, da tutta Italia. Oltre alle sezioni che ha ricordato c'è anche una sezione dedicata ai giovani, e questo è importante perché la nostra professione è una professione che deve essere aperta anche alle forze più fresche. Assolutamente. Poi c'è un premio che è un po' più ralocchiello del premio Natale-Uksi, che è il premio del genio della donna, che viene assegnato non tanto alle giornaliste, ma alle storie di donne che vengono raccontate molto spesso dal giornalista. Infatti quest'anno è una collega del giornale di Vicenza che ha vinto raccontando la storia di una grande donna, una suora, una religiosa vicentina, che è stata insignita del titolo di ufficiale della Repubblica, perché in una zona molto a rischio come la Calabria, delle cosche, eccetera, che difende la dignità della donna, ha una cooperativa sociale di assistenza, e quindi è una bellissima storia. Grazie Stefano, sono tante le storie che sono state poste alla vostra attenzione, tante storie che hanno messo in luce persone che nella quotidianità vivono valori importanti. Io ricordo allora le premiazioni, sabato 19 dicembre alle 11 in Comune a Verona. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. E in chiusura vi ricordo, vi parlo anche di un altro premio, la ventunesima edizione del premio San Teofemia, che sarà assegnato domenica dal prefetto Mulas, verrà consegnato appunto il premio San Teofemia a Itali Affortunati e Perla Stancari, già prefetti di Verona, per il loro intervento nei protocolli di intesa sulla prevenzione della violenza e dell'abuso sui minori e contro la violenza domestica e contro le donne. Bene, è tutto per oggi. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.